E salve a tutti ragazzi, sto resistendo a sto cazzo di video per la quarta, quinta volta non so più perché ho un problema di parlare o perché appunto sono dislessio e non riesco a parlare neanche non trovo le parole dove ho fatto un sacco di em e ho detto no vaffanculo risettiamo tutto il video oppure quando mi trovo a l'audio del video distrutto non so per cosa non so per niente e proviamo sperando che il ventilatore non da noi, no in teoria non da noi perché ho provato e quindi qua siamo su la cosa del andiamo contro la gente stupida in questo caso contro la contro la percezione che le donne sono sempre le solite vittime oppure non esiste la violenza maschile non esiste perché i maschi sono molto più forti in termini del dna che è impossibile per una donna di uscire a batterlo, si però nel caso che la donna sappia le arti marziali sarà una più dell'uomo dove l'uomo non si allena dove è un discord mod, un grassone che non riesce a far, non riesce manco a correre non è che magari per raggiungere una determinata forza dobbiamo lavorarci su, no questo no perché pensiamo che gli uomini siano automaticamente i più forti, i più distruttori, i più masochisti no dai qualcosa in meno e quindi e quindi partiamo già da questo, vi ricordate questo cartone, vi ricordate questa roba dopo che è successo tutta sta minchiata delle dite femministe che dicono la violenza maschile all'edonio fenomeno strutturale pervasivo, le sue manifesto sminuiscono la portata della campagna femminista, come cazzo fa a sminuire la portata, cioè praticamente per te è molto estremamente, estremamente, effettivamente, non lo so, cioè è estremamente importante dire no, cioè estremamente così talmente importante che non si parla chissà come mai, perché se no viene sminuita la portata, no, cioè se siamo in un mondo dove la violenza, dove se si esercita violenza causa altra violenza, quindi se esercita odio causa altro odio, quindi io non voglio odiare altra violenza, allora qui, l'insegnava appena legato come associazione nazionale di re, donne in rete contro la violenza, sottoscriviamo e condividiamo pienamente indirizzato al sindaco di Amo in relazione a una campagna di affissione che pubblicizza un presunto numero di telefoni dedicato alla violenza subita dai uomini, ma che cazzo vuoi fare, sindaco? No, tu devi leccare i nostri piedi, non ce ne frega un cazzo se esiste la violenza non tre uomini, non ce ne frega un cazzo, imita in uno, perde i miei 522, no, 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 non ci siamo proprio, tornatene a casa, non sei capace di fare il sindaco, non siete capaci voi di capire qual è la vera problematica del mondo, siete voi che dovete tutti fare ammenda, dovete tutti esseri educati da cima a fondo, poi uomini macchiati di odio, nati di come demoni poi pigliamo una cazzo di femminicidi, scusate, femminista seria, Barbara Benedentelli, autrice di 50 sommatori di violenza ai femminicidi e maschicidi in Italia, dove racconta sia di uno sia dell'altro, e se andiamo così, periodo 2015-2016, negli ultimi tre anni di queste due date, sono stati 1.254.000 uomini che hanno subito violenza, e almeno 3.550.000 uomini 54.000 uomini che hanno subito una violenza in tutta la loro vita, ok, che comunque le donne sono più soggette, poi se qualcuno mi sta dicendo, no, ovviamente se ci sono stati, ok, 118 oppure vi trovate una, andate su domicidioitalia.info e leggerete questo, 41 vittime e 2.24 c'hanno già 18, non è un buon numero, anzi è un pessimo, ancora pessimo, comunque le donne hanno sempre doppie probabilità, io vorrei parlarti di uno, di un Riccardo, nome di fantasia comunque, e anche qui si è scritto, e il poveretto si era innamorato di un altro, con la moglie non era migliore, litigava spesso, aveva un figlio di 10 anni che, quando gli hanno visto litigare, dopo che lei l'ha svergogliato, pubblicamente su social network, subito, solamente perché parlavano, quindi dopo che ha promesso il figlio di di manelli di ritorno, che si faceva vedere al ritorno del figlio, perché andava, boh, in una colonna estiva, ok non capisco ancora adesso, dopo 5 volte che lo sto dicendo e dicendo sto video, va bene, poi un giorno che lui faceva i suoi i cazzi, su, va stava, stava gestendo il giardino, lei è uscita, tornato, che ha chiesto le sue cazzoni, urlato, gettato, girato il suo viso, schiaffo, urlare, carabinieri, venuti, hanno buttato via l'uomo di casa, così come cazzo è possibile e basta questo per essere buttato di casa e fatto come fate a dire che basta non state più bene insieme? divorziatevi prendetevi con calma sistematemi e addio poi da lì non è riuscito più a parlare con suo figlio non è più entrato in casa e non è riuscito per niente a dire le cose come stavano al figlio lui in attesa del, poi in attesa del giudice che gli consiglia di vedere nei giorni prestabiliti dove è solamente sabato e domenica poi la madre tutto il giorno mette in testa al figlio perché uno dice eh no i figli sono intervengono no i figli sono molto ingegno la mente dei figli è molto malmeabile quindi dire anche che quindi effettivamente far sì che anche il figlio capisca fin troppo bene che cosa significa lgbt e tutta roba è veramente e tutta roba è veramente una roba disumana è vomitevole perché i bambini hanno bisogno di tutti i due i genitori non hanno bisogno di una stronza o di uno stronzo o di uno stronzo allora mi sono tutte e due tutte e due perché si sente poi dopo si sente che ne manca una figura quella figura lì e poi andando avanti mi sono trovata anche sta roba ovviamente questi sono articoli quindi ovviamente se prendiamo gli articoli mano per mano non è sempre detto che sia del tutto che si sia del tutto la verità ovviamente prendo questo è da prendere con le pinze ma anche da dire non è detto che non sia mai stato non è detto che non si sia non c'è c'è così è stato molestato da una donna 45-50 anni la donna si sarebbe afficciata a uo al giovane e aborto la propria autonomia con la scuola di chiedere informazioni poi le sono diventate tutto diverse alle allusive le domande quando era caso forse per capire qualcosa per capire di cosa stesse parlando la donna nel senso dalla vettura da lì sono iniziate le monesse prima sono iniziate la felpa papapapà lanciate addosso toccare il giovane è poi uscito di vittura se sono iniziate l'auto e andare per sforgere la denuncia poi l'ho letta anche abbastanza bene perché effettivamente non c'è nulla anche perché questo qua mi sembra proprio un caso limite tu che scendi quando non capisci che cosa vuole intendere se magari aveva un atteggiamento più importante proprio che capire che almeno esce cerchi di calmare però qua no e comunque no 2.22 dove ancora era un oggetto di sforzo per i uomini che subiscono adesso è veramente tu ah subisci sì vabbè perché ti è piaciuto in realtà perché non ti è piaciuto molto probabilmente e qui e qui per l'esempio che avevo detto prima il team blame sapete che cos'è il team blame? è dove dove la gente cerca delle scuse per far sparire o per far ricadere una colpa in parte completa sulla persona come per esempio i vecchi che dicono eh tu tu signorina non devi non devi stare con la minigonna tu te devi vestire per bene tipo questo se no è per questo che ti violentano signorina per me è questo ok sì quando si parla anche di sta roba come per esempio con le femministe che si cerca di parlare e non dicono no non esiste perché perché noi doni perché uomini sono di natura malvanzia che nascono aggressivi dove dove la società ricresce in modo aggressivo quando mai la società cresce in modo aggressivo di maschi e forse sono io che dormivo in classe magari magari come cazzo eh eh come è possibile neanche ora non è che non mi pare cioè come fa la società a crescere in ragazzi violenti cioè per crescere per effettivamente crescere così dovrebbero prendere dovrebbero fare come su spatta prendere uno uno i bambini educa lì sul monte lontano dalle donne dicendo che le donne sono sono cani a macello così del genere e non mi pare e non mi pare che adesso c'è in questa tipologia di educazione riferita ai bambini maschi come pare se mi sto sbagliando ditemelo però da dove ditemi come può essere che la società favorisca l'uomo aggressivo dimostramelo se mi lo dimostri con le robe effettive ti dico ok poi se tu mi dici eh ma è dai è dalla famiglia io ti lo caccio su per il culo perché no la famiglia e se il bimbo provendo da far una violenta sarà quasi sempre violento di suo perché lui conosce solamente quel tipo di di comportamento e il bambino pensa che essendo aggressivo o la bambina essendo aggressivo prende rispetto come effettivamente il padre o la madre prende rispetto dal dalla moglie o dal o dal marito e questo non è che sto parlando solamente se un trauma ma in qualsiasi caso comunque come per esempio i bull molte volte un bullo nasce per qualche difficoltà la mia per qualche cosa effettivamente oppure magari non riesce non riesce a a sere amici oppure non riesce andare bene a scuola anche e come e fa un atteggiamento un pochino aggressivo perché effetti perché sente così c'è qualcuno che mi rispetta che gli da importanza e per questo è un continuo finché c'è sempre qualche altra persona che lo incoraggio poi dice bravo quasi così al mondo c'è sempre qualcosa che continua è questo non è che la società ha creato questo tipo di le persone violente è il modo in cui tutti hanno vissuto fino a poco tempo fa che hanno vissuto in una base di violenza dove è all'ordine del giorno dove l'uomo effettivamente è spesso violento la donna non poteva fare nulla perché effettivamente la donna molte volte veniva offerta in sposa quindi doveva fare tutto quello che poteva per far fedisce l'uomo adesso no la donna è anche effettivamente autosufficiente cioè al giorno d'oggi anche le donne possono prendere una casa e chi una macchina con i loro soldi con le loro forze con il proprio lavoro quindi adesso pensare tanto che hanno meno possibilità di uomini solamente dire è un dato falso su quanto prendono gli uomini per esempio perché è un dato falso che comunque gli uomini non è che prendano il 30% delle donne che prendono chissà quanto di più delle donne se io faccio una loro pericolosa prenderò automaticamente più soldi se io faccio un ambiente molto molto leggero non pericoloso che non servono nessuna tipologia di competenza che non serve niente effettivamente me lo comunque tenerò meno indipendentemente indipendentemente se sono un uomino donna e lo posso anche dire che anche le donne posso essere violente e ho vissuto questa violenza in casa mia l'ho vissuta fin da piccolo ho avuto molte volte dei atteggiamenti aggressivi derivati dalla mia famiglia non è che li ho sviluppati no sono stato cresciuto con la violenza quindi mi sembrano bra da molto piccolo quando ero in alimentare mi sembrava normalissimo poi alle medie mi è venuto un pochino il dubbio e poi alle superiori effettivamente se non qualche cosa forse no ma neanche ah l'ansario superior ha avuto molto di più dei eserimenti nervosi e dei a a un certo punto degli attacchi di panico e mi ha dato più questo derivato alla attacca quello che subivo quello che c'era all'area che tiravo in casa particolarmente difficile da spiegare una cosa del genere ricapitolando tutto e mettendo anche le mie esperienze femministe non rompete il cazzo non è che esistete solamente voi anzi crea anzi dare solamente importanza a un determinato sesso un determinato un determinato gruppo di persone causa solamente odio odio oppure oppure fai molta più fatica a raggiungere il tuo obiettivo devo prendere un obiettivo puoi dire un obiettivo vero e proprio devi cercare di prendere tutto o tutti o nessuno a sto punto perché se stiamo lì a dire no abbassa no nessuno ti abbassa la gravità della situazione nel caso dei doni nessuno perché nessuno te la sta toccando quando si sta parlando di cercare di risolvere un problema nella radice dove sei tramandato in anni in anni tu puoi solamente dire ok un inchino ai tuoi piedi ti aiuto dove si dovrebbe sempre andare paro passo con tutto se voi liberate le violenze liberate le violenze in modo bilaterale non solamente un interlaterale la violenza intesa su un un detenuto sesso ok per questo video è tutto spero di averlo parlato abbastanza bene più o meno è la prima volta donato provando magari mi verrà meglio con la questione Ubisoft e loro politica corretta di schifo vabbè parliamo dopo tanto so che sapete che cosa voglio intendo che cosa intendo ci vediamo al prossimo video ciao ciao